Ben ritrovati amici del centro matitaliano. Sole e caldo sulla penisola a causa dell'anticiclone africano in espansione. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 31 luglio. Sole prevalente al mattino da nord a sud, locali addensamenti di sviluppo al pomeriggio su Alpi Appennino con possibilità di brevi isolati temporali. Sole prevalente su coste pianure con clima molto caldo. Fenomeno in esaurimento dalla serata con tempo asciutto su tutte le regioni e cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, specie al centro nord. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del centro matitaliano.